Mi lasci dire che c'è una malattia del potere? C'è una malattia del potere, che mette in evidenza quel potere che deve essere gestito, come fate voi, al servizio della collettività, che è un ruolo importante, per accompagnare, per far crescere, per organizzare, ma c'è anche chi è seduto su quel potere. E sono ben presenti chi è malato del potere anche in questo momento. Sì, se no avremmo avuto certe riforme, non avremmo questi balletti di equilibri, perché alcune riforme non vengono fatte perché ci sono i veti incrociati, a scapito della collettività. Le mafie sono più forti di prima, nonostante il grande lavoro, perché la corruzione, voi me lo insegnate, è l'incubatrice del potere mafioso e il suo avamposto. La corruzione è il suo avamposto. E noi abbiamo bisogno, quindi, di una velocità di interventi, di micrismi legislativi, in questo è un piccolo passo, 416 termi. Peccato che hanno diminuito le pene, invece che di dare il segnale forte, ma ci auguriamo che il Governo si è impegnato, si è impegnato, di portare il pacchetto di ripristinare le pene. Qui lo voglio vedere, perché la corruzione non è uno dei tanti problemi del Paese. Lo dico incoraggiando il Governo a fare questo, incoraggiando quelli che in politica ci credono, sono seri, sono bravi, la gestiscono con passione al servizio del bene comune e sono i più schiacciati da una violenza di pochi, ma che si fanno sentire. Grazie.